Sono giorni colmi di preghiera nella parrocchia Santa Croce che celebra la festa della Madonna di Lourdes. Si conclude oggi infatti l'ottavario cominciato il 3 febbraio prevedendo il Santo Rosario intorno alle 17 e 15 e a seguire la Santa Messa con l'Omelia Mariana. Il 10 febbraio viene anche celebrata Santa Scolastica patrona delle Suore Benedettine. L'11 febbraio, giorno in cui si ricordano le apparizioni della Madonna Bernadette proclamata Santa nel 1933, si susseguiranno quattro celebrazioni a partire dalle 8 e 30 fino alle 11 e 30 e poi alle 12 e 30 ci sarà la supplica alla Madonna di Lourdes. Mentre nel pomeriggio due le celebrazioni, una alle 16 e 30 e alle 18 la Santa Messa Solenne con la benedizione delle famiglie. L'11 febbraio è anche la giornata mondiale del malato, infatti anche a loro sarà dedicata una preghiera. Infine verrà effettuato un sorteggio per l'assegnazione di tre madonnine. In passato la tradizione della parrocchia prevedeva una processione che però è stata sospesa durante la pandemia e non ancora ripristinata. La festa della Madonna di Lourdes è legata alle apparizioni della Madonna, spiega il parroco padre Pietro Riggi, che a sua volta ci richiamano quello che il Papa Pio IX ha fatto nel 1854, cioè ha proclamato il dogma dell'immacolata concezione. In questi giorni in parrocchia viene raccontata la storia ma si fa riferimento anche ai messaggi. Il messaggio della Madonna di Lourdes ci richiama il paradiso, racconta padre Pietro Riggi, perché la Madonna ci dice che tutti dobbiamo essere davanti al Signore Santi e Immacolati nell'amore. E quindi il messaggio di Lourdes sottolinea un dogma, una verità di fede, aggiunge che l'esistenza del paradiso è l'orientamento della vita dell'uomo su questa terra che deve essere per la sua maturazione.